L'uomo più conteso del Gran Ballo! Solo perché sono in segno della Gran Ballo! Perché ho fatto l'invito io e ho cominciato io con la spazzola di La Verità! Com'è questa iniziativa? Raccoglie consensi? La Piazza dell'Amore è caratterizzata negli anni come la Piazza dell'Amore, l'Arco di Concarat, la Piazza degli Innamorati, l'abbiamo inaugurata il 14 febbraio 2017. Sì, assolutamente sì, e abbiamo caratterizzato questa piazza come la Piazza degli Innamorati, tant'è vero che le persone che si vogliono scambiare la promessa di matrimonio vengono qui ormai. Qui dietro c'è anche un vicolo, il vicolo del bacio, dove a metà percorso non è possibile guardare né da un ingresso né dal lato, quindi ci si può scambiare un bacio in maniera segreta. Adesso non posso dire tu. Va bene, grazie sindaco!